Sangue della Passione, Fuoco d'Amore di San Buonaventura da Bagno Regio In Gesù buono, vite nostra, fiorisce la rosa vermiglia ed ardente, vermiglia del sangue della passione, ardente del fuoco d'amore, rorida delle lacrime sparse dal dolce Gesù. Egli, Gesù Ottimo, l'allegrezza mia e il gaudio degli angeli, pianse e fu contristato. Dice San Paolo, nei giorni della sua carne, avendo offerte preghiere e suppliche con forti grida e con lacrime a colui che salvarlo poteva dalla morte, fu esaudito per la sua riverenza. Ebrei 5,7 O mio cuore di sasso e non di carne, tu sai che il grande e l'ottimo Gesù, nei giorni della sua vita mortale vissuta per me, fu madido di pianto e tu non ti spetri? O cuore duro, hai sentito che si commosse per te fino alle lacrime colui che in eterno non si commuoverà e tu neppure adesso sei fino alle lacrime commosso? Aggiungerò al fuoco d'amore il sangue della passione per vedere se ti riscaldi, se ti intenerisci, affinché tu offra un po' di pianto in cambio delle lacrime versate e del sangue sparso, un po' di pianto al dolcissimo Gesù. Prenderò il grosso martello e ti batterò l'incudine di ferro perché almeno i colpi ti destino. Se tu fossi arido come terra senza acqua, facilmente ti potresti ammorbidire solo con l'esser penetrato dalle lacrime del dolcissimo Gesù. E se poi, per il freddo dei molti delitti, avessi la durezza di un rigido macigno, io metterei mano ai forti arnesi, al martello della croce e all'incudine dei chiodi di ferro affinché, spezzato da questi chiodi confitti in te, tu lasci scorrere il fonte delle lacrime salutari. Non ti commuovi neppur ora, cuore duro e impenitente, ma sei più crudo della selce del deserto che, percossa due volte dalla verga di Mosè, zampillò con racchio grande di acque. Bada che il martello della croce è più gagliardo a ferire dalla verga mosaica e che i tre chiodi di ferro, tre volte percossi, sono più gagliardi e più efficaci nel far gettare le acque che non fosse l'iterato colpo della verga di Mosè. E se non ti scrolli dirò che hai la durezza del diamante, sangue di capretto ci vuole per ammollire il diamante. Io ti prescrivo e porto il sangue del capretto e dell'agnello immacolato che è il buon Gesù, sangue copioso, sangue fervente per il calore, di incomparabile carità, sangue che con la sua forza ammolliente spezzò e dissolse la parete di diamante, quella dell'odio posta fra Dio e l'uomo. Pertanto, cuore di diamante, immergeti nel sangue abbondante del capretto e d'agnello nostro. Giacevi dentro per riscaldarti e nel calore intenerirti ed intenerito a aprire il fonte delle lacrime. Io cercherò per me il fonte delle lacrime e lo troverò nelle lacrime, nella croce, nei chiodi ed in ultimo nel sangue vermiglio del mitissimo Gesù. E chi mai, altro che uno tutto sensi e privo d'ogni spiritualità, chi mai avrà nausea di questo sangue? Chi, desideroso d'essere liberato dall'infezione dei peccati carnali, non vorrà la medicina del sangue purissimo di Gesù? Chiunque si sia una volta inebriato di questo sangue dolcissimo, apparecchiato dalla sua vita di Dio al poverello, più e più ne ha sete. Egli ode ed intende la voce reale della Divina Sapienza, dell'unigento di Dio, del generoso Gesù, il quale disse, coloro che mi mangiano han più fame e coloro che mi beguono han più sete. Mi affretterò e berrò e comprerò senza spesa alcuna quel vino e quel latte che la sapienza dell'Altissimo Padre, il benignissimo Gesù, ci mesceva nel calice della sua carne, cioè il suo sangue, prezzo di nostra vita. E venite presto con me voi che volete bene all'amato Gesù, compratelo non con i corruttivi di metalli dell'oro e dell'argento, ma col ricambio delle opere e delle sante cortesie. Comprate quel vino e latte, il purissimo sangue, che come vino nebri è i perfetti e come latte nutrisce i bambini. Se tu sei perfetto, se tu sei robusto, ti sarà vino al sangue di Gesù, sangue schietto d'uva generosa, se debole ancora e bisognoso di cura lattea, il sangue è il tuo latte nutriente. Bevi dunque questo schiettissimo sangue.